Buongiorno Presidente, grazie per aver raccolto l'invito dei tifosi del Palermo. La prima domanda è rivolta da Alessandro Runfola, chiede con esattezza che cifra ci vuole per acquistare il Palermo? È una domanda alla quale rispondessi sarei anche stupido. Allora, il problema non è quanto serve per acquistare il Palermo. Io nel Palermo ho messo, da quando sono qui, circa, e ci sono tutti tabulati poi, che siete invitati, quando volete, con la Daniela a vedere. Io ho messo circa una novantina di milioni. È chiaro che oggi il Palermo in Serie B non vale quella cifra. È chiaro che il contratto che avevo fatto con Baccalini si basava soprattutto più che sulla cifra del Palermo, che era stabilita, ma sulla cifra, che erano circa 130 milioni, che servivano per costruire lo stadio, per costruire il centro sportivo e per fare da Palermo una squadra che potesse competere per le Coppe europee. Questo era il programma. E oggi rimane la stessa domanda. Io avrò degli incontri nei prossimi giorni e naturalmente, come ho già detto anche ad Orlando, è molto importante che chi arrivi qui o chi arriva in Italia abbia i soldi da investire nel calcio moderno. Perché oggi il calcio è cambiato completamente. Il Milan e l'Inter ne sono l'esempio. Avevano due grandi imprenditori più grandi di me, che si chiamavano Moratti e Berlusconi. La Roma ne è l'esempio. Altre società che vengono in questo momento contattate, il Prama, mi sembra che siano già entrati i cinesi, vengono guardate e servono capitali. Il Paris Saint Germain, avete visto quello che ha speso, il calcio internazionale, se si vuole andare a certi livelli bisogna competere con stipendi da dare ai giocatori di un certo tipo. I compratori, non è importante quanto devono dare a me, quanto investiranno nella squadra. Quello che voglio far sapere alla gente è che loro si impegnino. La seconda domanda è posta da Paolo F. A maggio del 2004 siamo andati in Serie A, a luglio dello stesso anno il Napoli è fallito. Dice Paolo, adesso noi siamo in una situazione precaria, mentre loro sono stabilmente nelle zone alte della classifica di Serie A, e soprattutto per il terzo anno consecutivo in Champions, perché non è riuscito a creare un progetto simile? Prima perché Napoli è un altro mercato, viene da Maradona, viene da un mercato che porta 70-80 mila persone allo stadio, viene da un mercato che offre a Napoli e lo so dalla sua amministrazione la copertura di tutte le spese di gestione del Napoli esterni, viene fatta da sponsor esterni, 100%! Vuoli aerei, alberghi, ritiri, carta igienica, tutto. Il Palermo, zero. Io a Palermo ho avuto zero. In più, il Napoli in questo momento qui fattura circa 180 milioni, il Palermo in Serie A, 50. Questa è la differenza, il Palermo non può permettersi degli stipendi di giocatori che si permetteva quando io ci mettevo dentro 20-30 milioni all'anno, che si permetteva quando mi facevano perdere 10-15 milioni che io dovevo coprire le perdite, ma erano dovute non a spese folli, erano dovute agli stipendi. Miccoli guadagnava un milione e tre, che valgono di due milioni e mezzo all'anno. Oggi il Palermo non si può permettere un Miccoli, non si può permettere un Toni, non si può permettere certi giocatori. Questa è la differenza con Napoli. Io spero che gli investitori che arrivano possano permettersi di fare questo. La terza domanda sulla stessa Fazzeliga. Dopo la finale di Coppa Italia, Palermo fu invasa da manifesti con suo scritto e solo l'inizio. In realtà da allora fu una parabola discendente. È forse da lì che la maggior parte dei tifosi cominciò a sentirsi presa in giro. Perché? Che è successo? Io non ho mai messo nessun manifesto, non so chi li abbia messi, e non lo pensavo, si comincia di adesso, pensavo fosse un miracolo il fatto che fossimo andato con una buona squadra alla finale. e sapevo già in quell'anno lì che c'era una grande crisi nel nostro paese, che il problema per me non era tanto il Palermo ma le mie aziende, che naturalmente vivono ancora quel periodo di crisi, perché l'Italia non è uscita da quella crisi. È cambiato il mondo da allora. Ripeto la stessa risposta che ho dato prima. Il mio gruppo non è più nella condizione di mettere soldi per coprire le perdite del Palermo e sto cercando di gestire al meglio il Palermo in questa situazione. E in questa situazione c'è, anche per qualche errore tecnico mio, specialmente agli allenatori, anche la Serie B, come c'è stata la Serie B l'altra volta, pur avendo una spada molto più forte di adesso. Succede perché il Palermo oggi è in quella fascia, per le entrate che ha, di lottare con le squadre che hanno le stesse entrate, con l'Udinese che, guarda due anni fa, è arrivata a un punto dietro di noi, si è salvata anche l'ultima partita, col Chievo, con l'Empoli, con quelle squadre che hanno lo stesso bilancio nostro. Proprio su questo, sull'attualità, chiede Giuseppe Castelli, come mai dopo aver incassato 25 milioni di paracadute, più altri 10 circa di cessioni di Pezzella, Bruno Enrique e Gonzales, ha bisogno di altri 20 milioni di euro per far quadrare i conti? Allora, i 20 milioni di euro per far quadrare i conti sono un'invenzione sua. Sicuramente io ho fatto oggi le tabelle, mi ha dato la tabella del bilancio la Daniela, perché ho chiesto poi più i dati per questo. Noi quest'anno avremo entrate per 42 milioni, perché non c'erano qui, e abbiamo uscite per 46 milioni, più che avremo 4 milioni di soldi che devo trovare io per coprire la differenza, non 20 milioni. E perché? Perché i costi ancora del Palermo, purtroppo, solo di giocatori sono di 25 milioni. è perché hanno inventato il paracadute, non per dare i soldi alle società, ma per coprire le spese. Io penso che il Cesena avrà 4 milioni di stipendi, il Palermo ne ha 25. Guai se non ci fosse stato il paracadute. Credo, anche per giustificare la domanda, lei ricorderà quando qualche mese fa lei disse se non arriva Cascio dovrò vendere qualcuno perché vi ho bisogno di 20 milioni di plusvalenze. Ma noi, infatti, sicuramente, io ho bisogno di 20 milioni di plusvalenze, tant'è che le abbiamo fatti circa 10, e una domanda che ho fatto Cascio un mese e mezzo fa, gli ho detto, guarda Cascio, che mi devi dire se hai intenzioni di venire, perché se tu non arrivi, io sono costretto a vendere anche le staroschi, e a costruire una squadra per andare in seriale lo stesso, ma ho bisogno di fare delle plusvalenze perché non mi basta il paracadute con gli stipendi che ho. E naturalmente di lasciar fuori anche certi giocatori, i rispoli o le altre cose, perché, ripeto, i 25 milioni me lo sono mantenuto perché sono convinto che arriveranno anche loro. Però, malgrado tutto, abbiamo fatto un ottimo mercato, abbiamo fatto circa 10 milioni di plusvalenze invece di 20, per cui direi che dai dati che ho detto io mancheranno 4 milioni, neanche 10, e spero che rimangano tutti i giocatori che ho adesso, e io ho fatto una squadra costruita per andare in Serie A. Mi auguro che arrivino gli americani e naturalmente io li vedrò, penso, settimana prossima, e se arriveranno loro, naturalmente io li farò presenti, e quelli che sono gli investimenti, come ho fatto io quando sono arrivato, di comprare già a gennaio 3-4 giocatori che siano già pronti per la A per fare la differenza. La quinta domanda è di Giuseppe Todaro. Ci sono state stagioni incredibili in cui non si sono raggiunti obiettivi per un pelo. Per esempio l'anno in cui fummo, primi per quasi tutto il girone d'andata, poi si infortuniò Mauri e perdemmo tutto il vantaggio non raggiungendo la Champions League per un punto. Bastava acquistare un attaccante, ma lei non lo prese. Molti tifosi le rimproverano anche questo. Il fatto che in tante occasioni sarebbe bastato poco per regalare un sogno, ma quel piccolo sforzo non è mai stato fatto. Perché? Allora, non posso andare nel bar sport a sentire che loro vogliono comprare una punta. Se non è stata comprata una punta è perché noi pensavamo, essendo mi sembra, avendo girato a dicembre a 38 punti, in 19 per dicono 1-2-2, ed era un miracolo. L'ha detto anche Guidolin che era un miracolo. Siamo andati in ritiro in Spagna, mi ricordo, c'era Piero Grasso con me, e siamo tornati indietro irriconoscibili. Abbiamo perso 3-0, mi sembra, con la Sampdoria, la prima partita del girone di ritorno. Era una caratteristica anche di Guidolin. Stranamente le sue squadre, il Bologna prima, non mi ricordo che l'altra squadra, avevano fatto lo stesso percorso, che facevano un campionato, un girone di andata favoloso e un girone di ritorno dell'Eterio. Tant'è che a Bologna lui fu esonerato e ebbe delle grosse difficoltà. Dire che il Palermo di quell'anno era a 38 punti per Amauri è falso. Tant'è che a Amauri poi, nella Juventus, non si è rivelato un Di Bala, si è rivelato un buon centravanti. Direi che abbiamo fatto un miracolo il girone di andata, difficilmente percorriva il girone di ritorno. Tant'è che se voi andate a vedere le mie interviste di quel periodo, io dicevo che noi dovevamo combattere per andare probabilmente nelle coppe europee, ma non per lo scudetto, che era impensabile. E naturalmente noi siamo andati in Coppa UEFA, che era un ottimo risultato per il Palermo. Francesco Cimo chiede, è mai stato geloso della popolarità dei suoi allenatori? Delio Rossi, per esempio, per quale motivo lo ha mandato via? Era un allenatore scarso o le dava fastidio che i tifosi lo amassero? Vede, una delle cose che io non ho mai fatto è essere sui social e coltivare la stampa. Io sono sempre stato zamparini per quello che sono, nel bene e nel male, soprattutto una persona molto onesta. Mai invidioso di essere un allenatore, sempre allenatori sostenuti da me. La favola è venuta fuori perché io ho esonerato tantissimi allenatori, ma non perché non li ho sostenuti. Rossi è andato via perché ha perso 7 a 1 in casa con l'Udinese. E nello spogliatoio qui sotto mi ha detto, Presidente, non ci capisco più niente. E io gli ho detto, se non ci capisco più niente, stai a casa. Rossi era tanto stimato da me, che penso l'ho richiamato poi forse, non so chi è. Che due anni dopo, quando avevo bisogno di un allenatore, non so chi fu esonerato, chiamai sia Rossi, sia quello che adesso allena il Nant, che prima è quello del Nester, come si chiama? Ragneri, bravo. E Ragneri mi disse di no, e Rossi mi disse di no. Prese due giorni di tempo, poi mi disse che non se la sentiva. Io prima di prendere, penso Gasperini, presi quella volta, avevo chiamato Ragneri e Rossi. Perché Rossi è un allenatore che ho sempre stimato, anche se la sua carriera dopo di me non ha portato a niente, così come tanti altri allenatori che noi abbiamo visto. Iacchini non lavora, Ballardini non lavora, Lerenzi non lavora, Corini è andato a Noara in Serie B. Non è che abbiano fatto delle carriere, è che io fossi un visionario. Sicuramente io prendo delle decisioni, molte sono sbagliate, io ritengo che l'anno scorso sono andato in Serie B perché ho sbagliato specialmente agli allenatori. E specialmente uno che mi ha fatto arrabbiare, che era Ballardini, che mi ha fatto arrabbiare perché diceva che voleva andarsene via, perché mirava più soldi, e io sentendo l'orgoglio e non il cervello, l'ho lasciato andare via. E ho sbagliato. Gli altri mi hanno mandato in Serie B. Con Ballardini probabilmente il campionato avrebbe preso un'altra piega. Con? Con Ballardini. Sicuramente, aveva l'esperienza per farlo. Andiamo avanti. Kurkovic chiede Carlo Forestiere, perché in questi ultimi anni è stato così vicino a lei? Perché nonostante non gli abbia fatto fare grandi affari, rifinandole spesso giocatori scarsi, ha continuato ad essere il suo fidato consigliere. Allora, io non so chi abbia alimentato la favola del mio amico Kurkovic. È una favola che hanno alimentato, non so da chi, qui a Palermo. Lui è stato per anni il panel scout dell'Est per l'Udinese. Tutti i giocatori dell'Est che giocano con l'Udinese vengono da Davo Kurkovic. Lui è il procuratore di Matric, il miglior giocatore del Real Madrid. È il procuratore di tanti altri giocatori di valore che lo amano, perché lui prima di essere un procuratore è un uomo, ed è un mio amico, proprio perché è un uomo. A me ha dato, tra i koschi, costo un milione, valore oggi due milioni circa. Posavec, costo 500 mila euro, forse di meno, valore oggi tre milioni. Durkovic, prestito di un anno, uscito, non era all'altezza del Palermo. Nestorovski, costo 500 mila euro, valore oggi 15 milioni, me ne hanno offerti 12, ho detto di no. Rajkovic, un milione, un milione, non di più. Balog, costo 5 milioni, valore massimo oggi, in questo momento 2 milioni. All'esami, un milione e due, valore di oggi 7 milioni, ne ho rifiutati 5 dalla Turchia. Salai, prestito 300 mila euro, Iaialo svincolato, valore di oggi 1 milione. Totale, dei costi 9 milioni e mezzo, totale dei valori dei giocatori circa 30 milioni. Questo è il lavoro che ha fatto. Tutto il resto sono fantasie, che non so chi ha creato. Io non lo sento da due mesi, è amico mio di famiglia, perché lui mi porta la farina, io gli do il vino. Ed è una bravissima persona. E per i giocatori dell'Est, chiedo sempre a lui, come per i giocatori del Sud America, chiedo sempre a Gianni Di Marzio, come per i giocatori italiani di B, chiedo a Foschi. Oltre alla valermi dei miei. Oggi non ho bisogno, perché se c'è un tale scout perfetto, con l'aiuto di Lupo, che è molto bravo, è Tedino. Perché Tedino conosce tutti i giocatori del mondo, perché lavora come un pazzo da tempo su tutti questi dati qui. E tutta la squadra che noi abbiamo fatto, i giocatori nuovi che sono arrivati quest'anno, sono arrivati con l'avvallo del 100% di Tedino, altrimenti non sarebbero arrivati. Restando in argomento mercato, chiede Andrea Longi, perché ha pagato 2,2 milioni per Balog e 2,8 milioni per il suo procuratore. È quello che ho detto prima. Oggi se c'è un problema grosso che c'è nel mondo del calcio, sono i procuratori, lo sapete sempre. Io sono in battaglia con i procuratori da circa 3-4 anni, mi hanno fregato con Pastore, mi hanno fregato con Di Bala, mi hanno fregato anche con Balog. Tant'è che il 1,8 milioni di quei non è stato pagato, sono stati pagati 3,2 milioni. 2,8 milioni, è a bilancio questo dato? Sì, il costo è a bilancio, ma non sono stati pagati ancora. E sono purtroppo giocatori che vengono pagati così. Io Di Bala l'ho pagato 12 milioni, mi davate tutti del cretino, fino a quando Di Bala non è stato venduto a 40. Pastore l'ho pagato 6 milioni e mezzo della metà, mi davate tutti del Pastore tedesco, fino a quando non è stato venduto a 42. Io penso che Balog, che oggi è infortunato, quando è arrivato Tedino mi ha detto guardi ho visto Balog nel nazionale, penso sia il giocatore di più grande valore tecnico che abbiamo in squadra, cercherò di farlo diventare un giocatore. Io lo spero. E spero di dire perché Balog l'ho pagato quella cifra. Naturalmente io non ho mai visto Balog giocare, ho mandato il direttore sportivo di allora, che era Gerolin, ho mandato Di Marzio a farmi le relazioni, le relazioni erano di un ottimo giocatore. C'era l'Ajax in combutta con me, con lo stesso prezzo, e mi sembrava di aver fatto un gran colpo fregandolo all'Ajax. Andiamo avanti, Marco Iona chiede la cessione a Baccalini è fallita perché la nuova cordata non l'avrebbe inclusa nel progetto di costruzione di stadio e centro sportivo? No, è fallita perché non ha messo i soldi sul tavolo. Cioè, se a un certo momento arrivano quei soldi che avevano promesso quei contratti, io ho fatto dei contratti con Baccalini e con Integritas, che per fortuna la procura ce l'ha oggi di Palermo, perché la finanza me li ha sequestrati, per cui ce l'hanno anche loro. E lì sono scritte tutte le cifre. E c'erano 200 milioni, che loro dei quali mettevano 130-150 milioni per le attestature sportive e per lo sviluppo del Palermo, che non è poco. Per cui io non centro niente con la costruzione dello stadio con Baccalini. Facevamo parte di un progetto insieme perché il contratto con Baccalini e con Integritas non era solo per il Palermo, ma era su tutti i miei progetti in Italia, che sono per circa 3 miliardi. Quindi non c'era un interesse e non ci sarebbe neanche oggi sulla costruzione? L'unica cosa che a me farebbe piacere è costruire uno stadio a Palermo, perché voglio bene a Palermo, ma non perché deve essere mio. Senza alcun interesse. Non me ne frega niente. Ok, Fabrizio Mancuso chiede che senso ha avuto nominare un presidente ancora prima di cedere alla società? È stato un modo per distogliere l'attenzione dall'imminente retrocessione? Vede, quando io ho firmato il contratto, questo è uno scoop che le do, perché è simpatico, quando io ho firmato il contratto con Baccalini, uno il 9 di febbraio come gruppo, su tutti i miei progetti, e uno il 24 di febbraio sul Palermo, dopo il 9 di febbraio, siccome quello di febbraio era basato su tutti i miei progetti, era basato su una linea di credito di circa 2 miliardi che Belgrò dava per creare liquidità per i progetti, un contratto fatto con loro. Quando Baccalini mi ha detto guarda è stata fatta, stanno arrivando i soldi da Singapore per queste operazioni che abbiamo fatto, è ok, se tutto ho fatto mi dici ok, puoi fare anche il presidente, così cominci a prendere, ed era quasi una prova per vedere se quello che mi aveva scritto era vero. Per me il fatto che lui ha accettato di fare il presidente e di andare da Orlando a dire che faceva lo stadio e di andare all'università, di andare da tutti dove è andato, mi rendeva tranquillo e diceva non può andare a dire delle cose fasulle. Purtroppo oggi si sono dimostrate fasulle. Io non è che ho messo lì Baccalini per coprire qualcosa, anzi, purtroppo quando dopo l'Udinese io ho chiamato Baccalini e gli ho detto guarda che bisogna mandar via, perché avevo già chiamato Balardini, bisogna mandar via Lopez, perché l'unica possibilità di salvarci e tenere Balardini, lui mi ha risposto no, qui comando io faccio il caso che non era vero. E l'ho lasciato fare, Simone, la tizia di B. Simone Lima chiede, da anni dice che vuole vendere, però è sempre frenato da motivi che a noi sembrano alibi. Una volta dice che i compratori ci avrebbero portato in eccellenza, un'altra volta che non avrebbero costruito lo stadio, altre che non davano garanzie per il futuro. La domanda è questa, ma a lei di quel che faranno i suoi successori, che gliene importa, perché non si prende i soldi e si ritira in buon ordine? Ma se lui, se lei è contento che io mi prendo i soldi e poi il Palermo non abbia un futuro, il fatto che io mi preoccupo del futuro del Palermo mi preoccupo anche per lei che mi fa questa domanda e per voi. E dovreste essere molto preoccupati anche per voi, non dei soldi che prendo io. Ecco, non riesco a capire questa posizione. Via Zamparini è al suo posto chi? Antonio Musso chiede, ha detto che non ha società a Londra, come giustifica le tre società intestate a lei con 10 milioni di capitale ciascuno? Sarei felice di avere 10 milioni di capitale ciascuno, vorrei dire che avrei 30 milioni di capitale. Mediagol mi ha mandato un'altra domanda dove uno dice guarda, perché avete costituito tre società a Londra la mattina, le avete chiusi il giorno dopo? E ho detto che sono affari non del Palermo Calcio, sono affari del mio gruppo perché aveva aperto tre conti correnti con tre società per delle operazioni finanziarie che poi non sono andate a buon fine e l'ha chiusa subito, ma non esistono 10 milioni. Se tutto va a sentire però quello che dice la stampa, io l'ho imparato dopo che è venuta la guardia di finanza dal giornale il giorno dopo che avevo 30 milioni nelle banche inglesi, magari. C'è anche una particolarità in questo, perché nelle tre società registrate nel Regno Unito ci sono degli errori di forma nell'autocertificazione, cioè c'è scritto che lei è nato nel 42, mentre è nato nel 41, c'è un indirizzo di residenza sbagliato. Chi mi ha fatto queste cose qui, infatti sono state chiudere subito che la mia segretaria si è accorta anche lei, era un professionista di cui non faccio il nome importante, di Roma, che tramite un professionista di Londra aveva l'incarico di formare questa certezza per operazioni finanziarie di quei miei asset. Quando ci siamo accorti che era una persona fasulla in Barriere, l'abbiamo più ragione dopo. Però voglio dire, non c'è niente col Palermo, cazzo, che cazzo non ne frega voi! Considerati gli anni della sua proprietà, considerato che negli anni della sua proprietà sono stati più i successi che le sconfitte, più gli anni di A che di B, non è un peccato dopo tutto lo sforzo non solo economico lasciare Palermo in questa maniera? E' domanda di Angelo Cazzo. Ma vede, io non voglio lasciare Palermo in questa maniera, in questa maniera l'avete grata voi, sputanandomi negli ultimi due anni, dicendo che io porto via i soldi dal Palermo, dicendo delle cose completamente non vere, ma soprattutto a Palermo, perché io quando vado in giro a Londra, a Milano, a Roma, i palermitani mi fermano e mi ringraziano. In tutta Italia sanno nel calcio che persona sono io, io non devo dimostrare a Palermo chi sono, io ho 76 anni, 50 anni di imprenditore, con un'onestà che deve essere esempio per tutti, con i miei conti correnti a disposizione di tutti, non devo dimostrare niente, sono stato insultato a Palermo solo perché la squadra andava male. Lo accetto, ma non dire che tutto a Palermo mi odia, altrimenti Palermo non sarebbe la Palermo che io amo, assolutamente no. se lei vede oggi il problema dei social su un inserto che ha fatto il Corriere, è un problema globale, mondiale, di cui non sappiamo come difenderci, da quelle persone che ci insultano con delle falsità. Ecco perché io rispondo alle vostre domande, ma ne rispondo a sempre, a qualsiasi domanda. Ecco perché i miei dati che ho qui di bilancio, dove si dimostra che io ho tirato fuori circa 80 milioni, 90 milioni per il Palermo Calcio, dei quali circa 60 milioni invece dentro a coprire le perdite, dove si dimostra che da quando sono io ho dato al fisco 277 milioni pagati, 277 milioni. Per cui tutte queste cose qui, dove sono tutti i dati di bilancio, queste cose che quando volete, e se lei si ricorda qualche conferenza stampa di gennaio-febbraio ve l'ho detto, ho detto andate dalla Daniela, chiedete i dati ve li diamo, ma andare a leggere un bilancio, andare a leggere la passività del Palermo che ha nel 2014, lo ho detto prima e mi faceva ridere, che ha nel 2016-17 103 milioni di passività e 103 milioni di attività e dire che il Palermo ha 103 milioni di debiti vuol dire non capire niente di bilancio, perché noi quando abbiamo venduto Di Bala abbiamo un credito per Di Bala nei confronti della Juventus di ancora 32 milioni, ha pagato solo una rata, ma poi abbiamo scontato il credito e abbiamo un debito verso la banca che ce l'ha scontato di 32 milioni, perché abbiamo un attivo di 32 e un passivo di 32 e così con altre voci che ci sono attive e passive, punto, ma questo è capire di bilancio, ecco naturalmente io non ce l'ho con chi fa la domanda, ce l'ho con chi non informa, lui apriva delle informazioni sbagliate, perché se legge su un giornale siciliano che io ho 100 milioni di debiti, vuol dire che è una informazione sbagliata. Chiede Luca Lima cosa abbiamo fatto da sei anni in qua per meritare questa mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi dopo aver fatto entrare Maurizio Zamparini nel cuore di tutti i padermitani? Io non ho mai mancato di rispetto ai tifosi loro sì nei miei confronti io sono una persona insultata io non ho mai insultato io non posso dire che manco di rispetto a loro se vanno in Serie B manco di rispetto allora voglio dire quello dell'Empoli è mancato di rispetto con i tifosi quello del Pescara è mancato di rispetto con i tifosi quello del Verona l'anno scorso è mancato di rispetto con i tifosi succede Palermo è in una fascia dove l'anno prossimo sono nuovi investitori e andiamo in Serie A dobbiamo fare una squadra per salvarsi io non ho più investimenti da mettere dentro ho la mia capacità di muovermi sul mercato come ci siamo messi in questo mercato qui molto bene sono molto contento di avere Tedino e Lupo e probabilmente con loro otterremo anche risultati diversi così come ha fatto Sarri con Napoli sperando che abbiano un po' di pazienza se vi ricordate dopo 4 o 5 domeniche a Napoli parlavano dell'esonero di Sarri ve lo ricordate o no? eh meno male questo è il calcio chiede Marco Campanella stando alle dichiarazioni diversi anni fa oggi il Palermo dovrebbe avere in bacheca circa 7-8 scudetti secondo lei come mai non ne abbiamo nemmeno uno? se mi porto alle dichiarazioni di 7-8 anni fa che parlavo di scudetti io li regalo 100.000 euro per contestualizzare credo che intendesse diciamo delle dichiarazioni magari così ottimistiche vado a prendere allora le dichiarazioni ottimistiche di allora era ero felice che il Palermo si fosse posizionato dietro alle grandi e infatti per 3-4-5 campionati fino a quando mettevo dentro io 15 milioni all'anno 20 milioni per le perdite eravamo dietro alle grandi punto però se vi ricordate allora la UEFA ci dava al zero tant'è che quando eravamo secondi in quell'anno disgraziato lì che poi sono andati in Coppa UEFA con Guidolin siamo andati a giocare a Istanbul con i giovani della primavera perché Foschi e Guidolin mi dissero guarda non possiamo andare a seguire anche la Coppa a Coppa UEFA perché dobbiamo concentrarci sul campionato chiede Pietro Minardi perché l'anno scorso ha fatto un mercato non al livello della categoria per lo stesso motivo ho fatto il mercato che dovevo fare secondo me l'anno scorso il Palermo era una squadra migliore dell'Empoli migliore del Pescara migliore del Crotone uguale al Chievo uguale all'Udinese uguale altre squadre l'unico che ho sbagliato nello scorso è stato l'allenatore ripeto se avevamo Ballardini non si retrocedeva se avevamo Tedino probabilmente eravamo oltre la metà classifica con la stessa squadra Lei non crede che Quaisson e Iliemark in uscita a gennaio abbiano influito sulla quali sono le uscite di gennaio? Quaisson e Iliemark in particolare Allora Quaisson non giocava quasi mai Concorini aveva iniziato a giocare a fare gol Iliemark era una disgrazia sul campo tant'è che il Genova vuole dar via assolutamente no assolutamente no sono andati via non per una questione di denaro ma sono andati via per una questione che non erano visti a parte che Quaisson essendo della categoria di Kurkovic l'allenatore non voleva neanche parlarne chiede Pasquale Di Giorgio come mai a differenza del Palermo squadre come Udinese Chievo e Atalanta riescono a mantenere la categoria ormai da anni il Chievo è andato anche lui in Serie B 4-5 anni fa l'Udinese ha rischiato due anni fa di andare in Serie B c'è una differenza enorme il Chievo l'Udinese il Torino in Genova hanno il Presidente presente sempre Palermo purtroppo non mi ha mai presente come Presidente e non per presunzione ma per esperienza se ci fossi stato io tutto l'anno qui vivendo a Palermo non saremmo andati in Serie B perché come qualsiasi azienda anche il calcio ha bisogno dell'occhio dell'imprenditore che lo conduca qui manca l'occhio dell'imprenditore io mi sono affidato anche a persone esterne che non erano all'altezza e non è facile trovarmi lo stesso ruolo l'ho fatto anche a Venezia avevo delle persone che dovevano gestirmi la società e non è facile a Palermo manca la presenza di un Presidente che sia qui tutto l'anno io mi auguro che la nuova proprietà abbia un Presidente che sia qui tutto l'anno che faccia sentire la sua presenza da imprenditore al di là della nuova proprietà ci sarà la nomina di un nuovo Presidente immagino sì ma più che è un nuovo Presidente ci sarà bisogno di un uomo come Galiani se il Presidente fosse americano e viene qui una volta al mese non va bene saputo a Bologna ha messo un uomo e noi a Palermo loro a Palermo devono mettere un uomo tipo Galiani tipo Marotta che è un mio allievo ha fatto scuola con me 12 anni e con orgoglio dico che è diventato Marotta perché è stato a scuola da me per 12 anni chiede Salvo Calenda qual è a suo parere il più grande errore che ha commesso in questi 15 anni a Palermo ne ha commesso talmente tanti il più grande quello ma direi uno dei grandi errori è stato l'asselta dagli allenatori nell'anno che siamo andati in Serie B però è il senno di poi il Gasperini che avevo io è ecco il più grande errore è stato in quell'anno lì avrei preso pensando che fosse Galiani lo Monaco lo Monaco non è neanche l'ombra di Galiani Umberto Cipolla chiede quali sono le garanzie che Cascio dà adesso mentre l'anno scorso non dava allora le garanzie di Cascio non sono non le danni adesso nell'anno scorso noi abbiamo incaricato rispetto all'anno scorso dove avevo incaricato Banca Intesa di vedere le credenziali di chi voleva comprare il Palermo e non sono state date noi abbiamo incaricato lo studio Wieters di Milano che è uno studio dei più grossi al mondo di fare e all'incontro di settimana prossima sarà presso il loro studio di andare a credere le credenziali anche quest'anno per cui se si presenterà Cascio penso che si presenterà con imprenditori con le credenziali Cascio è una persona che io ho imparato a stimare è una brava persona non mi ha mai raccontato Ugie non ha raccontato che lui ha i mezzi per fare l'operazione ma ha i mezzi di carisma e mediatici per trovare con lui l'investitore per fare l'operazione Palermo tant'è che io gli avevo detto caro Cascio se non li trovi costruiamo lo stesso insieme qualcosa perché tu sei un testimonian che ci può permettere con un viaggio a New York fatto con Orlando magari con Piero Grasso con me e con te di raccogliere un fondo di tifosi palermitani che ce n'è milioni in America che prendono con questo fondo alimentare il fondo per prendere il Palermo per cui è una strada percorribile è una strada che io pensavo di percorrere anche all'interno di Palermo ma non è possibile per cui se degli imprenditori di Palermo vogliono venire dentro non dare dei soldi a me ma mettere dentro i soldi nella società entrare dentro a fare il presidente a fare la gestione ben vengano i miei soldi li posso prendere in dieci anni non c'è problema chiede a Maurizio Russo non crede che cedere adesso Lofaso potrebbe rappresentare un errore simile a quello commesso con Belotti allora Belotti è stato ceduto perché Iachini mi diceva che andava ceduto in quanto che non sarebbe mai diventato un giocatore lo credevo un poco anch'io perché uno degli errori gravi che ha fatto lo staff di Iachini non Iachini è stato se vi ricordate ingobbire Belotti Belotti l'ultimo anno che era con noi non era Belotti che è arrivato non saltava più di testa non andava via in progressione sbagliava tutti i passaggi sbagliava un casino di gol mi ricordo ma era Belotti che era sempre in zona gol tant'è che a Torino alle prime 6-7 partite 8 partite non ha giocato e Cairo mi ha chiamato mi ha detto mi hai dato un bidone e ha detto aspetta hanno avuto un grande merito riportarlo fisicamente a quello che è Belotti Belotti è un grande giocatore fisico con una grande fisicità per cui Lofaso Lofaso dovete chiedere Lofaso cosa vuol fare io sono felice se Lofaso rimane ma deve rimanere a allenarsi come gli altri non si sta allenando come gli altri ad avere la volontà di diventare giocatore non è giocatore ancora lo deve diventare e naturalmente questi media che li sono in giro così che li creano probabilmente li fanno male così come hanno fatto male a suo tempo a Ventivegna così come hanno fatto male a altri giocatori io mi auguro che Lofaso rimanga perché Lofaso è il suo sponsor numero uno era Di Marzio che l'aveva proposto anche a Marotta alla Juventus e io mi auguravo che non andasse via ma dipende da lui se diventare un giocatore o no i mezzi tecnici ce li ha però c'è anche un grande allenatore quest'anno che lo può fare diventare un giocatore ma vieni a chiedere a Lofaso se vuole rimanere o andare via non a me l'ultimissima l'ultimissima proprio perché sono anch'io tifoso è anche per tranquillizzare la piazza non accadrà quello che è accaduto a Venezia a Palermo cioè insomma la società del Venezia quando lei l'ha lasciata non l'ha lasciata benissimo ecco la preoccupazione a Palermo io al Venezia l'ho lasciato A senza un euro di debito B con 4 miliardi di patrimonio ci ha una persona come Dalcin che aveva fatto Milan Udinese ed era un uomo del calcio punto e gliel'ho regalata non solo c'era una fiduzione sul credito sportivo perché quando io ho parlato del Venezia si ha costruito io come faremo ho costruito gli spalti sopra di ancora 2 miliardi e mezzo che il Venezia aveva come debito 3 anni dopo il Venezia e Dalcin l'ha fatto fallire per colpe sue e io ho dovuto pagare i 2 miliardi e mezzo questo è quel cretino di Zamparini allora Palermo non è Venezia io ho lasciato Venezia perché Venezia mi dispiace per la coppina è quasi improponibile fare calcio Venezia oggi però forse si può fare di più di una volta perché oggi gli incassi del calcio non sono lo stadio ma sono gli incassi dei diritti televisivi del marketing lei deve pensare che quest'anno l'incasso degli abbonamenti di quello che inseriremo allo stadio inciderà sul Palermo del 2% potrei regalare tutti i biglietti incide 0 quando dicono noi boicottiamo Palermo ma incidete niente il 2% l'anno scorso ci sono incisi il 3% l'incidenza è 0 però voglio dire oggi il Venezia non è una piazza come Palermo ma Palermo è anche quella piazza che quando siamo andati in UEFA il primo anno mai è andato il Palermo in Coppa UEFA è andato in Coppa UEFA una grande squadra tedesca è venuta a giocare lo Salke 0-4 eravamo in 8 mila spettatori siamo andati a Bad Kalkerskir che non so come si chiama in casa loro erano in 50 mila con una squadra neopromossa non con una squadra ecco questo è Palermo è andato in 5 mila